Ciao a tutti cari amici e amiche del segno del capricorno, eccoci qui in mia compagnia, siamo pronti per il vostro oroscopo dal 2 all'8 gennaio 2023, grazie di cuore per seguirmi sempre, iscrivetevi al canale attivando le notifiche attraverso la campanella in alto a destra, lasciate un like, un commento e un feedback e sarò lito di rispondervi. Vi ricordo che sul mio canale YouTube Naturalistica ho pubblicato i 12 video dedicati all'oroscopo annuale del 2023, segno per segno da gennaio fino a dicembre 2023. Come sempre vi ricordo che queste sono energie estese generali, quindi non possono valere per tutti voi, per quello mi invito a optare se volete con i miei consulti privati e personalizzati di cartomanzia, vi lascio qui sotto tutto nei box di informazioni. Vanno le cianci e incominciamo con questa prima settimana di gennaio per voi del segno del capricorno. Abbiamo donno uomo, toro, vergine e capricorno, quindi donna uomo di segno di terra. Poi abbiamo il matto, se contornato da persone invidiose e gelose, amore su base intellettuale, nella sfera amore, amicizia e famiglia. Poi abbiamo questa carta e poi il pozzo. Ok, ok, ok. Dato che è uscita questa carta donno uomo, toro, vergine e capricorno, vado ad estrarne un'altra e vediamo un attimino chi è, cosa vuole questa carta figura. toro, vergine e capricorno. Potreste essere anche proprio voi ovviamente, vediamo. Abbiamo la carta ostacoli e blocco. Allora qui secondo me potreste vivere un blocco o un ostacolo nel relazionarvi con una persona del toro, vergine e capricorno o che abbia l'ascendente in uno di questi segni. Però qui secondo me questo blocco è un qualcosa che vi portate dentro dal punto di vista emotivo, proprio voi che siete all'ascolto. Vi dico questo perché è uscito la carta del matto, qui c'è confusione, c'è caos dentro di voi, nelle vostre emozioni, nei vostri sentimenti e anche dal punto di vista mentale. Non riuscite a ritrovare la giusta direzione, non sapete bene dove andare e come comportarvi e cosa dire in determinate situazioni o nei rapporti interpersonali. Anche perché oltre a questo mi è uscita la carta del pozzo. Il pozzo è molto collegato all'inconscio, alla paura, proprio all'incapacità di entrare dentro di voi e comunque sia scoprirsi. Questo blocco, questa situazione ostacolante crea proprio difficoltà a gestire le emozioni, proprio quando ci si trova di fronte a un ostacolo e voi lo state vivendo e lo vivrete ancora durante questa settimana, questo blocco vostro personale o un blocco anche nelle relazionarvi con le altre persone. Comunque sia ricordate che avete le capacità di impedirvi di affrontare le esperienze come una sfida e stimolarvi a dare comunque il meglio, ok? Poi il fatto che siete contornati da persone che sono gilose, che sono invidiose di voi, di sicuro questo non vi aiuta e voi vi siete accorti che attorno a voi ci sono delle persone che magari fanno buon viso a cattivo gioco e pian piano le state comunque smascherando e questa cosa ovviamente non vi fa star così sereni e tranquilli. Poi per coloro che vuole essere intraprendere un rapporto interpersonale potrebbe esserci qui la possibilità durante questa settimana di iniziare un rapporto amoroso su base intellettuale che di sicuro non guasta il fatto che siete comunque connessi da puntista mentale. Poi se invece state portando avanti anche da un po' di tempo un rapporto amoroso qui sicuramente siete sulla buona strada perché diciamo che si fonda molto su basi intellettuali, su basi mentali e non solamente sul sesso, sull'attrazione fisica. Qui dovete fare attenzione a una persona un po' tirannica, a una persona proprio ego riferita e anche un po' immatura, ok? Una persona che potrebbe mettervi del caos dentro di voi e potrebbe essere proprio una persona del toro vergine capricorno o che abbia l'ascendente in uno di questi segni. Qui c'è anche la possibilità di un ostacolo da dover affrontare perché siete da una parte un po' pigri e dall'altra sarete comunque indecisi su che direzione prendere. Altre cose sinceramente non ne ho da dire. Qua sicuramente voi volete liberarvi anche dai condizionamenti di altre persone e secondo me qui con questo matto avrete la voglia di rischiare, la voglia anche di mettervi in gioco e anche oltrepassare questa situazione ostacolante di blocco. Ma per far questo dovete lavorare sul vostro pozzo interiore, sul vostro diciamo blocco emotivo che vi portate anche fin dall'infanzia, quindi lavorate molto su voi stessi. Benissimo cari amici, queste sono le vostre previsioni e vi aspetto sempre qui sul Tagomè. Ciao a tutte, alla prossima!